Sette da sette notti, ho un'altra vera Ma scusate, pomare, che noi qua in paese non è che cerchiamo le comodità delle vede incitate Lei ti c'entra, pomare, chi fa ti c'entra lei? Se accomodarsi, se accomodarsi E chi è, si mangia? Anzi, ci devi scusare, perché questa sera non ci sono cose degne di suo merito Dov'ovo frischi, poco di subpizzata, delle vinibili, delle fischi Aspettate, tu non lo fico suicchi, roba tu, roba tu, roba tu, roba tu Sicilento pensi tu che non vuoi fare l'oro Va bene, va bene, nanna, vai, ci penso io Vado a fare! Che misteri fai? Con cui? Il misogelo? Ah, il misogelo fa il misteri! E professore, professore! Io ritiro, io ritiro Inizia l'olore e l'osso. Papà, scusa l'annunzio. Voi ascoltatevi qua, mentre se mia è serapia. Prego, 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 prego. Accomodatevi, prego, prego. Voi l'anno non può ascoltare. Io non mi vinto solo un bicchiere giuretino. Allora io ho fame nel gennaio. Non ho... E' tanto per me, e' tanto. Ah, si, si. Mi libera, non mi sto adescando. Per me e' tanto, io... L'attora si roba, non si mangia. Ah, hanno ore e notte, hanno ore e notte. L'annunzio è tutto! Si. Hanno ore e notte si mangia. No, no, perché... C'è tonza, qualche... qualche gente di compagna. I cani, i cani! Ah! Voglio dire, di paese, di paese. Questa, quest'ora siete già... con i cani. E c'è tutti i corti di compagna. Ca' non c'è teatro, non c'è insattenimento, non c'è festini. E perciò noi c'è... No, no, no! Dato mi scemo. Certo, ha avuto della pullaria. Ah! Che zoso! Certo! Ha avuto dei polli, delle galline. Ma un po' ci vuole delle galline. No, 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 noi no. Noi in città invece... Facciamo... Facciamo... di Gionè... di Gionè a... a mezzogiorno. Poi... ci facciamo il patrillo... e poi la sera... le metto... le sei... le otto, cinque, meno un quarto... facciamo il prinzi completo. Eh? Ma... eh... 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 no, eh... il bimbi ci vuol dire... eh... professore... in ritiro. Ah, in ritiro. Eh, ma ma... voi non mi viti? Eh, mi viti, mi viti, mi viti, mi viti. Ah, ma... quando è d'allegria? Allegria, chi sto potendo... Noi da quando andriamo! Allegria! E poi non stanno! Non ti preoccupare, non ti preoccupare che ora... 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 ci manciamo... e poi ne cucamo... e stiamo... tranquilli, giusto? Vero Serbina? Vero Serbina? Vero Serbina. Certo, fa... questa rietta di campagna mi fa bene perché c'è questo forzo che cala al ritorito... e poi... e poi c'è questo vinello... Guarda! Cala solo, solo, solo cala! Si, si... Cala troppo bene! Si, ma l'occhio! Pitti per sto cadastro! Si, va bene! Ma poi, certo, giustamente per noi cittadini ogni tanto ci vuole una villeggiatura... per essere le campagne, per essere la pulleria... E calo compagno che vuole! L'uomo non è mai contento! , , , ma di chi ha filmato daibelt городi , , di chi ti ti chiampevo tutti , ? Devo farlo di farlo dalle OTRA. Abusi, abusi qua, abusi qua, abusi, non ci sono problemi, abusi, abusi, sdovati, sdovati, ah ah ah, butti butti butti, facendo un po' di pronto qua qua mi devo fare la scappita dopo. Non dimenti mai, non dimenti, non dimenti, non mi ampevo guarda, non mi faccio preoccupare, va bene, non ne rende, ma non ti preoccupare e posate questa paretta e vi è venuto magari oggi a vivere qualche cosa ti faccio un altro? no, non c'è bisogno, non c'è bisogno a posare questa paretta e vi è venuto a vivere qualche cosa ah, disgraziata la pannata ma questa buccia sono le coteche ah, va a cominciare a fare la canuccia le coteche che sono? l'andaggono dentro l'andaggono sta a morire lo scambio lo scambio la sofferta lo scambio si, si vede che sono affiatato come un po' di rummetto oh non ti ho visto un'altra città questa patta che delicatetta non mi preoccupare che ci sono cose fine e gentili e perciò non hanno persone fine e gentili grazie a avere compagnozza e a meno potere e poi se ti vuole l'onorare sono facilissimo a fare chi tu vuole grazie allestito compagno vede pira vede che mi la dà mensa ma può morire disfraziata la mannata famiglia mensa ne voglio pietate ma completamente di quella pira mi voglio menta siamo agittori tiro la 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 grazie a me piglia a me piglia aspetta mamma a me l'enro grazie prego grazie grazie la mannata i piglieri i piglieri i piglieri i piglieri è iniziale e il vino di nevole sicura anni e chi un velo di me ne vado un ciccino un bottigão ho volato una desovaggia 29 anni fa nooo comare non c'ho mai questa questo mattorio Mette il vino che faccio uno sprint questo stesso canna a destra qua che vi faccio uno sprint forza ve lo sprint allora questo vino è rosso e fino e me lo bevo alla salute di Cicino più ne bevo e più mi sento tenero alla salute di me e di ora domani mattina e di ora domani mattina e di ora domani mattina a mia figlia Serafina ma come bevono loro così scogliamo e questa è festa e non è mattorio alla salute di Cumpari Calorio e che ha Moscoli senza la salute di Mastella Poverenza non cinesi non trovo per rubare un nuovo sacco e abbiamo finito e che fa finito la mancia? a mia famiglia la moglie e marito non ci usano a rubare professore a rubare ce l'ha da fare e ti schiesa ti vuole un pelle e che è finito e che è finito con donna lona pezza della pannara che si mangiava una cosa ci dava un po' aia uno io con me si 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 brava con Mario parlava con Magarita e poi disse professoressa Magarita si 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 e di ora domani mattina ti rungi un go per scappare non rimane non rimane e e e e e Ehi!